60 quesiti in 100 minuti. Inizia la prova di ammissione a medicina e chirurgia e odontoiatria alla Fortezza da Basso a Firenze. Sono 1417 i ragazzi che partecipano al test. C'è emozione nell'aria. Quest'anno per limitare gli spostamenti causa pandemia il capoluogo toscano ospita i residenti di Firenze, Pistoia e Prato. Alla mano anche diversi documenti per poter accedere all'aula, uno tra tutti il Green Pass. Hanno cominciato a entrare dalle 8 di questa mattina, suddivisi in ordine alfabetico, quindi fasce orarie per gruppi di lettere alfabetiche. Devono essere in possesso del Green Pass, dell'autocertificazione, della ricevuta di pagamento e del documento di riconoscimento. Avete portato tutta la documentazione necessaria per poter entrare, Green Pass? Si è portato tutto, è un po' complicato, c'è un monte di foglie, ce ne sono veramente tantissimi, però si pensa di aver portato tutto. Green Pass, obbligatorio e le varie ricevute. È stato complicato compilare i fogli eccetera oppure no? No, è più complicato il test. È molta ansia, però si fa. Bisogna avere tanta fortuna, però insomma mettercela tutta sempre. La pandemia non ha scoraggiato i giovani che vogliano entrare in sanità. Il Ministero aumenta i posti al concorso di medicina e le domande di iscrizione non si fanno attendere. C'è stato un incremento rispetto al 2019 che si attesta intorno al 20% dei posti messi a disposizione. Questo può essere un effetto della pandemia del Covid? In parte sicuramente, sì, specie per l'ulteriore incremento che c'è stato dal 2020 al 2021. Però ricordo che questo incremento comunque era partito l'anno ancora precedente, quindi sicuramente credo che sia anche frutto di un'attenzione ulteriore da parte del Paese, dello Stato. Ecco.